È anche un piacere essere qui perché in sostanza l'assemblea è il momento più alto dell'associazione e di Avis in sostanza noi collaboriamo già in tutta la regione e non solo a Parma e crediamo che ci sia un momento storico dove il contesto ci imporrà sempre di più di lavorare insieme con grande concretezza ma anche nel segno dei valori.